Vi doniamo una piccola pietra, una piccola masceria. Ne parleremo durante il nostro seminario di questa piccola pietra e di questa piccola masceria al ricordo delle nostre case, chiese, circoli e negozi. Tutte le nostre pietre rimarranno sempre il simbolo della nostra identità e della nostra storia. Hanno formato le nostre case che ci hanno affolto e protetto per tanti anni. Ora dobbiamo e vogliamo andare avanti con nuove idee, nuovi progetti e nuovi materiali più sicuri e altrettanto belli. Sarebbe bello che ognuno di noi, nelle nuove e sicure case che avremo, custodisse una piccola pietra e ci ricordi sempre quello che è stato e quello che siamo. Questa è la memoria che rimarrà sempre viva. La ricostruzione sarà la nostra nuova storia. Grazie, Ronnello. Grazie. Grazie.